Cittadella. La Guardia di Finanza nell'ambito di alcuni controlli a contrasto del lavoro nero ha effettuato nei giorni scorsi 26 interventi nell'Alta Padovana. Più dell'80% dei controlli si è concluso con la contestazione di illeciti consentendo di individuare complessivamente 12 lavoratori completamente nero e 20 distributori di carburante che non avevano effettuato le prescritte comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi di vendita. I titolari degli impianti di distribuzione carburante sono stati segnalati al sindaco competente tra invece i provvedimenti di sospensione dell'attività emessi in virtù delle gravi irregolarità relative alla tutela dei dipendenti.